Mara Venier, una delle conduttrici televisive più amate in Italia, è stata colpita da una tragica perdita inaspettata. Pierre Francesco Forleo, marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, è deceduto all'età di 62 anni, lasciando un vuoto profondo nella vita di coloro che lo conoscevano. Pierre Forleo era un dirigente di grande rilievo nella RAI, l'emittente televisiva nazionale italiana, ricoprendo il ruolo di responsabile della Direzione Diritti Sportivi. Ha giocato un ruolo significativo nell'organizzazione e nella gestione dei diritti televisivi delle competizioni sportive trasmesse dalla RAI. Il suo lavoro era estremamente apprezzato e rispettato nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. La causa della morte di Pierre Forleo non è stata specificata, aggiungendo un alone di mistero alla sua improvvisa di partita. La notizia ha colto di sorpresa amici, colleghi e fan, che si sono riversati sui social media per esprimere il loro cordoglio e le loro condoglianze alla famiglia. Mara Venier ha voluto commemorare Pierre Forleo attraverso un toccante messaggio pubblicato su Instagram, in cui ha espresso il suo dolore e ha ricordato il genero come una persona speciale e amata. «Pierre, sei stato un genero meraviglioso. Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia. E io ti ho voluto bene come un figlio. Siamo tutti annientati. Tutto è accaduto troppo velocemente». Anche Andrea Vianello, giornalista e volto televisivo italiano, ha reso omaggio a Pierre Forleo con un tweet che sottolineava la grande perdita per la Rai e per coloro che lo conoscevano. Svegliarsi con la notizia terribile che un grande dirigente della Rai, bravo, per bene e pieno di vita come Pierre Forleo, non c'è più. Era un amico. Lo chiamavamo il principe per la sua eleganza naturale nel sapere vivere e nel suo talento nel lavorare. Un talento di pochi, vicino a Elisabetta. La scomparsa di Pierre Forleo rappresenta un momento di grande tristezza per Mara Veniere e la sua famiglia, così come per la Rai e per l'intero panorama televisivo italiano. La sua figura di dirigente stimato e amato lascerà un vuoto che sarà difficile colmare. La sua memoria vivrà nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. E il suo contributo al mondo dello sport e della televisione sarà ricordato con gratitudine.